Ciao a tutti e buona domenica! Ho pensato di farvi questo breve video, visto il particolare momento difficile per tutti quanti, per aggiornarvi un pochino sulle modalità che abbiamo pensato di proporvi per non farvi perdere le vostre lezioni. La nostra scuola, come da normativa vigente, sarà chiusa perlomeno fino al 3 aprile, dopodiché speriamo che la situazione sia migliorata e tutti noi possiamo tornare alla normalità. Dato che ci teniamo moltissimo i nostri studenti e non vogliamo che loro possano perdere la possibilità di continuare l'apprendimento e il percorso intrapreso, abbiamo pensato con i nostri insegnanti di proporvi delle lezioni in modalità e-learning, quindi a distanza, utilizzando diverse piattaforme. Tutti i nostri insegnanti sono preparati e pronti per continuare con voi le lezioni e proporvi dei nuovi progetti, dei nuovi percorsi. Vi chiediamo gentilmente di contattarci per poter fissare un appuntamento anche telefonico per spiegarvi come abbiamo pensato di muoverci e di illustrarvi le modalità di insegnamento a distanza. Comunque, anche in caso voi non ci contattaste, lo faremo noi nei prossimi giorni per poter fissare con voi le date delle nuove lezioni. Vi ringraziamo tanto per la pazienza, facciamo un enorme in bocca al lupo a tutti quanti e ci auguriamo vivamente che questa situazione passi al più presto e tutti noi possiamo continuare a vivere la nostra vita in modo sereno. Buona domenica e buona festa della donna!